Benvenuti alla Lovely Corp. La nostra azienda ha centinaia di divisioni e produce un'ampia varietà di prodotti come i Lovely Phone, che sono vostri in omaggio. Campioni gratuiti proprio come da cosco! Peccato che mi hanno cacciato da cosco perché ero così eccitato che ho mangiato tutto il vassoio. Sembra una reazione eccessiva. Prova a dirlo alla moglie di Trey, perché ora è una madre single. Basta scorrere in basso sul display e fare clic su sì, sulle condizioni d'uso. Oh, mi ha ferito! Sta solo raccogliendo un po' di DNA. Io faccio la stessa cosa al bagno del Circolo delle Alci. Pensavo che Charles Lovely sarebbe venuto... Oh, ma è qui, ci sta guardando da quel dipinto.